Alfred c'è? C'è mutato? Alfred c'è? 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 Ok, 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 ok Sì, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Mi va a girare la stronti Non ne ho Non è fuori fuori Probabilmente c'è dentro Non è fuori Spend for boost Fleshing 2 Non è fuori Non è fuori Non è fuori Non è fuori L'edicis L'edicis Aspetta Ok. 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 All the way. e lo smurf ti da un altro rank è perchè ho seguito il grado di riferirlozio altra però non ne ho non ne ho churato Grazie. Sì. Sì. Cosa? Quale? Mi sono bloccati tutti. Sì, io che hanno novi. Eh, devo annullare le meccaniche. Che, due. Buono. E me ne ho più. Eh, volevo dire. Bastidio. Oddio, che bastidio. Ok. Vabbè, lui non è messo, Giulio. Eh no. No, no. Eh, no, no. Io sono proprio giusto, ma... Tir. Cazzo, non ho turbo. No. Ce l'ho, ce l'ho. No. Devo tirare. No. 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 Tirare. No. Vi ho poco. L'ho fatto uno. No. Eh no, l'ho fatto uno. Ok, open, open. Come on, ok... Um, that guy so v�. Oh no! I'm not gonna... cero 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 si bravo ah no ah no vese duo alla ala ila un super il 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 Cambio auto 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 Cambio auto